Beh diciamo che il pretesto per l'acquisto del Ring Fit Adventure per il Nintendo Switch mi è stato dato dal fatto che la Sardegna si trova in zona rossa e è un po' complicato andare a correre al parco di Molentargius in mezzo ai fenicotteri o lungo la spiaggia del Poetto perché diciamocelo nessuno ancora ha capito bene quello che si può e quello che non si può fare in zona rossa. Ho parlato con due amici che indipendentemente l'uno dall'altro mi hanno chiesto Cristina ma tu sai se per caso si può andare a correre al Poetto perché a quanto pare se parti da casa in bicicletta e arrivi in spiaggia in bicicletta e poi torni a casa si può fare ma io non ho capito bene se posso andare in macchina in spiaggia o al parco di Molentargius lasciare lì la macchina puoi correre puoi tornare in macchina e tornare a casa non lo so. Siccome non ho voglia di mettermi a spiegare insomma mi sono fatta prendere un po' dalla pigrizia di questa zona rossa e ho acquistato il Ring Fit Adventure Nintendo Switch. Credo di averlo acquistato non mi ricordo se eravamo già in zona rossa o se eravamo ancora in zona arancione perché ho sentito che ci sono i negozi che ora non ti vendono più le cose che non sono essenziali e sinceramente questo Ring Fit Adventure non è essenziale. Ma che cosa è il Ring Fit Adventure? È una cosa fantastica se avete mai fatto Pilates o comunque avete visto immagini di Pilates avete presente quel cerchio di plastica a vuoto al centro è semplicemente un cerchio che oppone resistenza quando voi cercate di stringerlo. Ecco immaginate questo cerchio che è grande quanto le mie braccia fatte a cerchio e a questo cerchio attaccate uno delle parti uno dei comandi del Nintendo Switch. L'altro comando del Nintendo Switch viene infilato in una in una band elastica che poi viene fissata nella gamba poi aprite il programma ed è un vi trovate veramente dentro un videogioco ma a differenza del mio povero Wii Balance Board di cui ho parlato qualche settimana fa qua siamo ai massimi livelli di non ai massimi però altissimo livello di definizione e soprattutto di risposta nel senso che un minimo il mio movimento porta al movimento dell'avatar che mi rappresenta sullo schermo. Insomma da una decina di giorni da 12 giorni circa io sto usando questo Ring Fit Adventure tutti i giorni ed è un vero e proprio gioco nel senso che ogni giorno scopro nuove schermate scopro nuove avventure nuovi esercizi mi sto divertendo tantissimo mi sto anche tenendo fit però non vedo l'ora di poter tornare a correre all'alba con i miei fenicotteri che mi volano sulla testa tornerà 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 tornerà.